Le biossine Diossine o PCBB Con il termine diossine si indica un gruppo di 75 congeneri o specie che sono composti chimici aromatici policlorurati ossia formati da carbonio, idrogeno ossigeno e furono. Sono tossici per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. A causa della loro presenza, persistenza e della loro liposolubilità, le diossine tendono nel tempo ad accumularsi negli organismi viventi, il cosiddetto bioaccumulo. Le diossine provocano alterazioni a carico del sistema immunitario, endocrino e della filoide. Alla prossima! Grazie!